Martedì 3 settembre, buongiorno e benvenuti a tutti, questa è la rassegna stampa di Fano TV sul canale 17, visibile in tutta la regione Marche e buongiorno a coloro che ci seguono in diretta alle 7 del mattino nella prima edizione e anche a coloro che ci seguono in replica allora cominciamo dal santo del giorno poi andiamo a vedere subito il tempo e i giornali il santo di oggi è San Gregorio Magno, è considerato uno dei più grandi padri e dottori della chiesa d'Occidente era nato nel 540 da una ricca famiglia patrizia e organizzò il canto liturgico che da lui prese il nome di canto gregoriano è stato un grande scrittore, lasciò molte opere di omiletica, pastorale, morale e spiritualità morì a Roma nel 604, il sole è sorto alle 6.33 e tramonterà alle 19.42 dicevamo del tempo, andiamo sul sito di Trebbi Meteo questa mattina per vedere la cartina geografica della nostra regione che indica al mattino temporali, temporali anche forti sulla fascia costiera così come il pomeriggio anche se poi le precipitazioni saranno destinate a diminuire così come nel corso della notte vedete domani invece questo è il 4 di settembre, questa è la fotografia del mattino con tempo e cielo soleggiato su tutta la regione Marche, soltanto qualche addensamento nei rilievi forte vento invece previsto nella parte sud della regione Marche, nella provincia di Fermo in particolare questa invece è la notte con cielo sereno ovunque, così come nella giornata di giovedì giovedì avremo sole su tutta la regione ad eccezione della provincia pesarese dove sulla costa saranno ancora possibili qualche passaggio di nuvole ma comunque per il resto insomma le giornate saranno decisamente soleggiate. Andiamo adesso invece a leggere i giornali partiamo dall'edizione di Pesaro del resto del Carlino, addio capitano, questa è la fotonotizia dolore, chiesa gremita per l'ultimo saluto al ragazzo ucciso da un aneurisma. Ubria che invece in bicicletta scatta la denuncia, etilometro per una ragazza dovrà svolgere lavori socialmente utili, poi sotto la notizia, una notizia di cronaca che arriva da Marotta, una donna che è morta sbalzata sull'asfalto, un'anziana, la donna viaggiava sulla sua vespa, fatale l'urto contro un'auto. Questa invece è la pagina di Macerata del resto del Carlino, la prima pagina, guida sballata, notte con la polstrada, ubriachi e drogati, strage di patenti e c'è addirittura chi scappa. Il Corriere Adriatico, l'edizione di Pesaro, dai capannoni inutilizzati, spazio alla musica dal vivo, parte il progetto di rigenerazione urbana, focus sulle ex zone industriali pesaresi della prima periferia. Centro pagina invece l'intervista all'uomo che si è salvato mentre la moglie purtroppo è morta, l'uomo che racconta di aver atteso 4 ore appunto con la sua moglie morta in auto, stiamo parlando dell'incidente in A14, il drammatico racconto di un ospedale di Pontellini. La famiglia tra le lamiere suonava il clacson ma nessuno mi sentiva. Tampona un'auto e cade falciata sull'altra corsia, la donna è morta poco dopo all'ospedale, percorreva la statale in sella al suo scooter e poi lo sport con la Vispesero che spavalda, fa l'impresa a Cesena, vince 2 a 1, è la prima volta, non era mai successo nella storia, nella sua storia, di vincere al Manuzzi di Cesena. C'è riuscita ieri la Vispesero al decimo tentativo con un 1-2 mortifero arrivato a metà ripresa. Tre punti d'oro dunque per la truppa di Pavanna che ha sfornato tanto carattere. Le pagine interne, un'anziana travolta uccisa dopo un tamponamento, questa è la foto con la scena della tragedia sulla statale triatica Marotta con lo scooter della vittima al centro della strada. Maria Testaguzza di 77 anni di Marotta era in sella a uno scooter, è caduta per aver urtato un'auto, però poi è stata travolta e uccisa da un'auto che l'ha centrata, l'ha tamponata. È un incidente mortale che è avvenuto nella tarda mattinata di ieri dove sulla strada nazionale triatica dove appunto a perdere la vita è stata questa donna di 77 anni deceduta poi per i traumi riportati. Lo schianto si è verificato poco dopo le 11 in un momento di traffico particolarmente intenso. Questa è la pagina invece del resto del Carlino, anche qui le fotografie, il titolo tampone in vespade travolta da un'auto, schianto mortale sulla statale, la vittima è una 78enne del posto, tre giorni fa il ferimento di uno scooterista, prima l'investimento di una 83enne. Ricorda il resto del Carlino che questa strada, la statale triatica a Marotta, è pericolosa. Sul piano delle asfaltature ci sono nuovi interventi, tutto pronto prima dell'arrivo del freddo. Si parla di asfaltature per quanto riguarda il 2019 in via Cavallotti si è asfaltato dalle 22 di ieri sera per finire entro la mattinata di oggi. L'assessore Tonelli spiega però che si asfalta un po' ovunque, periferia, centro e anche nella zona del mare, più o meno tutte le zone e i quartieri della città di Fano saranno interessate dalle opere di manutenzione. In questo momento sono due le ditte che stanno lavorando in contemporanea dopo la pausa estiva. Tra l'altro la pioggia battente di questa notte e di queste prime ore della mattina non stanno aiutando, diciamoci la verità, insomma ci sono tante strade che sono un colabrodo, nel senso che anche quelle piccole toppe che erano state messe qui, messe giù nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, queste toppe sono andate a farsi benedire. Di conseguenza si sono riaperte tante buche quindi fate attenzione se state per andare in auto. Gambe incastrate e telefono scarico invece. Ho suonato il clacson per quattro ore fuori strada in a 14 le drammatiche parole di Bruno Pontellini alla famiglia. Sciocca Tavuglia per la morte della moglie. Bruno Pontellini, 72 anni, sul letto dell'ospedale Bufalini di Cesena era lucidissimo, nonostante i traumi riportati dal fuoristrada con ogni probabilità causato da un colpo di sonno. Ricordava praticamente tutto. Di fronte ai nipoti Fabio e Patrizia che sono accorsi per primi da Rio Salso a Cesena ha raccontato tutto questo incidente avvenuto intorno alle 5 del mattino sul tratto della 14 che scende dal casello di Valle del Rubicone fino a Rimini Nord. Lui e la moglie stavano tornando da una vacanza trascorsa da alcuni amici in Belgio. Questo invece è il Carlino di Senigallia. Ciao Nino, guidaci alla vittoria dalla sua. Oggi l'addio a Massimiliano Caruso, 51 anni, caduto in una scarpata sulle Dolomiti. Saranno celebrati oggi alle 16 nella chiesa Santa Maria della Neve, Portone, i funerali di Massimiliano Caruso, questo uomo di 51 anni, di Senigallia che è deceduto sabato scorso a Madonna di Campillo durante un'escursione insieme alla sua fidanzata. Per lui non c'è stato nulla da fare, scrive il resto del Carlino. È precipitato in una scarpata, un volo di circa 70 metri che non gli ha lasciato praticamente scampo in città. era conosciuto da tutti come Nino. Suo soprannome, un soprannome che si era guadagnato con le sue prodezze calcistiche durante tanti tornei amatoriali a cui partecipava. E gli amici dicono di lui. Una persona speciale, punto di riferimento per simpatia e leggerezza. Sempre da Senigallia vende merce contraffatta, sequestro e sanzione. Un marocchino sorpreso dai carabinieri, anche due denunce per eccesso di alcol. E poi un evento, Io corro per la vita. Domenica c'è Alice con il suo esoscheletro. Domenica torna a Io corro per la vita, ad aprire la manifestazione e sarà Alice con questo esoscheletro. La città è pronta a dipingersi di rosa, siamo sempre a Senigallia, come colore simbolo della lotta ai tumori femminili. E c'è questa ragazza che vedete nella fotografia con questo bel sorriso, con questo bel viso. È una diciassettenne di Ambrosio, che in questa foto è con il papà, che lo scorso aprile, dopo aver espresso il suo desiderio a Matteo Viviani, inviato delle iene durante il programma in onda su Italia 1, ha ottenuto in dono il macchinario, grazie al quale, tra l'altro gli è stata, questo macchinario è stato comprato da una benefattrice anonima, un'apparecchiatura che costa 150 mila euro, che però permette ad Alice di camminare. Andiamo avanti. Sulla pagina di Valefoglia del Corriere Adriatico ancora il resoconto della cerimonia funebre a Monte Labate per il ragazzino 17 anni, che è morto a causa di un aneurisma. Folla da stadio per l'addio a Matteo, divisa e borsone da calcio sul ferretro. Centinaia di persone per il 17enne. Lo strazio della madre dice potevo prevenire la tragedia, si domanda adesso. Tante lacrime, palloncini bianchi, come avviene spesso in questi casi. Morire a 17 anni dovrebbe essere vietato. Il dolore che ha colpito la famiglia Sanchioni è con essa un'intera comunità fatta di parenti e amici conoscenti, squadre di calcio. Ieri tutti insieme erano all'interno di questa chiesa, almeno 700 persone, molte delle quali poi sono rimaste tra l'altro sul Sagrato, nonostante la pioggia, durante la cerimonia che è stata ufficiata da Don Giuseppe Fabbrini, parroco di Loreto. Matteo era una promessa del calcio e il signore se l'è preso a 17 anni. Andiamo con la pagina del resto del calino, anche qui la fotografia, guardate che volto sorridente questo ragazzino con tutti gli amici, una chiesa strapiena, lacrime che sono continuate a scendere. Il racconto, il racconto. Andiamo avanti. Etilometro. Allora, etilometro per la ciclista, iniziano i guai, una ventenne che era caduta con un'amica, aveva un grammo di alcol nel sangue, aveva bevuto, ma era ad una festa al mare, sapeva di tornare a casa in bicicletta, nessun rischio, almeno apparentemente. Invece una ragazza di 20 anni, fanese, si è dovuta ricredere perché è rovinata a terra, cioè caduta per terra nell'affrontare una rotatoria, la bici si è rotta, lei si è anche fatta male alle ginocchia, una sua amica che trasportava sulla canna della bicicletta, anche lei si è fatta male, tanto da finire tutte e due all'ospedale per medicarsi, non è finita qui perché per obbligo, obbligo di legge, per qualunque incidente va fatto l'alcol test al conducente, ed è quello che hanno fatto anche a queste due ragazze in bicicletta che però avevano un po' bevuta. Poi c'è tutto racconto sul giornale di questa mattina. Mentre si addormentò in auto con la bottiglia, è stato processato e condannato, inutili i tentativi di difendersi dicendo di essersi fermato per evitare incidenti, fino a quel punto però aveva guidato. Per i neopatentati il Consiglio è l'unica soluzione, bere esclusivamente acqua. Tutto il resto praticamente per i neopatentati è vietato. Siamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, che queste elezioni appena trascorse, almeno per quanto riguarda Fano, fossero state un po' sottotono, l'avevamo già detto più volte, anche gli spot elettorali, la campagna elettorale era un po' sottotono. Il Sindaco ha speso praticamente soltanto 14 mila euro, 8 mila alla Ruggeri, Tarsi deve ancora riferire le cifre, la scadenza per dimostrare, insomma per dire quanto hanno speso è l'11 di settembre, sopra la soglia dei 2 mila euro la sessore Mascherin e poi il più votato invece è stato Ser Filippi. E qui ci sono un po' le cifre di quanto hanno speso appunto i vari candidati, tra cui appunto il Sindaco. Nessuno ha ricevuto contributi superiori a 5 mila euro che devono essere resi poi trasparenti. I cani, i cani capaci di salvare in mare due persone, addestrati per 18 mesi, hanno grande forza e straordinaria docilità. Mentre la pagina di Fano del Resto del Carino si occupa di questa donna, questa mamma, si chiama Chiara Paci, che ha deciso di aprire una cooperativa per sostenere donne e bambini. Lei che ha vissuto sulla sua pelle, che cosa vuol dire? Essere una mamma single, single di un figlio minore, senza lavoro, senza prospettive, senza speranze e senza nessun tipo di aiuto. E racconta al giornale appunto la sua storia. Dal Corriere Adriatico, ancora da Fano, nuovo polo di uffici e sportelli, ASET, attenzione, si trasferisce a Bellocchi. La sede operativa da lunedì prossimo, in Via Fanella, disdetto il contratto con la Curia. La dirigenza spiega che i nuovi locali sono più efficienti, funzionali ed economici. Quindi se avete bisogno di andare all'ASED, sappiate che ci sono questi nuovi uffici, questi nuovi uffici per esempio che riguardano il servizio idrico, quindi l'acqua, la tassa sui rifiuti, l'illuminazione votiva, quindi per i cimiteri e non bisogna andare più a Via Fanella, ma in Via Inaudi a Bellocchi, nell'immobile, che ospita anche Pittarosso, così capite meglio magari un po' qual è la zona dove sono trasferiti questi uffici di ASET. Ancora sempre dal Corriere Adriatico, direttori generali nella sanità per quattro posti idonei, ci sono tredici candidati, presenti gli attuali vertici, Marini dell'Asuro, in bilico dopo l'inchiesta sugli affalti, per quanto riguarda Marche Nord invece, quello che ci riguarda magari più da vicino, essendo qui in provincia di Pesurubino, Marche Nord è quella che garantisce le performance migliori e secondo la logica, squadra che vince non si cambia, Maria Capalbo, l'attuale direttore generale dell'azienda ospedaliera Marche Nord, sembrerebbe avere la strada spianata verso dunque la riconferma. Ancora da Pesaro, festa dell'unità, chiusura sotto la pioggia, ma senza leader, ieri è stato annullato il dibattito, smontati gli stand e c'è stata la cena a Villa Fastigi, la Renco invece, sempre a Pesaro si mangia una corsia, questa è la fotografia che dà subito l'idea, qui siamo nei pressi della rotatoria, una volta uscite dall'autostrada per andare a Pesaro, ecco qua intorno c'è anche Media World, insomma siamo in quella zona lì, qua a destra c'è la nuova sede della Renco e come vedete qua ci sono le strisce, sono apparse queste strisce bianche e questo è un ristringimento di carreggiata, dunque per molti, molti automobilisti che oggi protestano e anche i residenti, probabilmente qui si formeranno delle lunghe code, staremo a vedere. Mentre per quanto riguarda i naturisti, quelli che hanno preso il sole completamente nudi l'altro giorno vicino al San Bartolo, l'ex presidente dice dei naturisti, dice le sanzioni sono gravi ma sono tutte da impugnare, l'Aghi che è un'associazione nudista contesta la lettura del codice. Poi guardate questa fotografia soprattutto per i pesaresi, sono tanti quelli che ci seguono ogni giorno da Pesaro, questi sono, questa è l'area individuata, siamo in via Fermo, via Toscana, via Gradara, Largo Ascoli, Piceno e via Milano. L'obiettivo è di creare dei locali dedicati al pubblico spettacolo e spazi aggregativi per giovani, per lo sport, botteghe digitali e quant'altro. Oggi a Pesaro esistono solo due locali per il pubblico spettacolo, a Villa Poderosa e via San Martino e in via Ponchielli. Il cantiere è aperto, addirittura d'arrivo infatti è il progetto della stazione Gauss, si lavora alla definizione di questi nuovi strumenti per facilitare adesso i cambi di destinazione d'uso di queste strutture. L'obiettivo è di realizzare due locali per concerti e balli ma anche per attività sportive ricorrendo appunto alle varianti. Andiamo invece adesso a Cagli. A Cagli c'è la notizia che probabilmente una strada del paese verrà dedicata ad Elisio Matteacci che l'artista ha deceduto qualche giorno fa. Domani, dice il sindaco Alberto Alessandrini, riuniremo la giunta e parleremo della proposta di intitolare una strada oppure una piazza ad Elisio Matteacci. Un desiderio della giunta ma anche della popolazione, dei cagliesi, perché molte sollecitazioni in questo senso sono arrivate da molte parti della popolazione e se ne sta facendo carico soprattutto il vice sindaco e l'assessore della cultura e dice il sindaco io sono perfettamente d'accordo. E poi sempre a Cagli la cronaca con tanti furti, una raffica di furti, intanto sono pronte le cinque telecamere contro i ladri, lavori che sono ormai i lavori in direttura d'arrivo, questo Grande Fratello, quando si parla di telecamere che sorvegliano la città in particolare, si parla sempre di Grande Fratello, installato anche nei punti di passaggio della città e queste telecamere saranno sicuramente utili. Torniamo invece a Fano adesso, qui siamo sul resto del Carlino, perché si parla delle bollette, quelle famose bollette con delle cifre molto alte che nei mesi scorsi, prima delle elezioni, hanno fatto arrabbiare tanti fanesi. Però adesso da quello che si evince dall'articolo che porta la firma di Anna Marchetti stamattina si evince che praticamente solo poche famiglie hanno chiesto i contributi, hanno chiesto un contributo per far fronte a queste bollette. Quasi ignorato infatti il fondo istituito dopo i rincari sulle tariffe dell'acqua. I contributi praticamente restano tutti lì. Secondo i dati forniti dall'ASET solo 58 famiglie fanesi, spiega il Presidente di ASET Spa Paolo Reginelli, hanno utilizzato il contributo economico messo a disposizione da ASET per un totale di 3.900 euro su un fondo che in totale aveva invece messo a disposizione di queste famiglie 50.000 euro. Quindi soltanto 3.900 euro e soltanto 58 famiglie. Mentre è più alto il numero di coloro che hanno fatto ricorso alla rateizzazione. Pare che siano insomma 113 le famiglie che hanno chiesto di rateizzare le bollette. Andiamo a Marotta invece. Questa è la fotografia del passaggio a livello che ora è chiuso. C'è un muro di cemento. Nel giro di pochi giorni è previsto l'avvio del cantiere per realizzare il sottovia ciclo pedonale e adesso dunque per andare al mare e viceversa dalla statale bisogna fare... ci sono tre passaggi. Quello cosiddetto delle rane a Marotta Nord, quello di via Togliatti e quello nuovo di via Ugo Foscolo che è stato inaugurato il 13 luglio scorso e che tra l'altro consente anche il transito di pullman e di mezzi pesanti. Nel giro di pochi giorni poi sarà previsto l'allestimento del cantiere per realizzare la seconda grande opera compensativa ovvero il sottovia ciclo pedonale proprio all'altezza del passaggio a livello soppresso che dovrebbe essere pronto per l'estate del 2020. Ma c'è anche il progetto della pista ciclabile così come annunciato dall'assessore ai lavori pubblici e alla mobilità sostenibile Lucia Catalani che dice cominceremo gli interventi lunedì 16 settembre con l'obiettivo di concluderli per la primavera del 2020. Questa pista ciclabile che sarà di un chilometro e 300 metri sarà a doppio senso di circolazione, sarà larga due metri e mezzo in affiancamento e allo stesso livello dell'attuale marcia piede. L'importo dei lavori di 428 mila euro di cui 128 mila dal comune di Mondolfo e 300 mila da un bando, un finanziamento che è arrivato. Dopo 5 sindaci e 37 anni, attenzione, dopo 37 anni e 8 mesi di servizio va in pensione dal primo di settembre, è andato in pensione l'ispettore di polizia locale di San Lorenzo in campo, Gilberto Bellagamba. E sabato mattina sindaco, colleghi, dipendenti comunali hanno tributato a lui un piccolo momento celebrativo. Nella sua carriera ha visto passare 5 sindaci, 9 diverse amministrazioni. Insomma potrebbe scrivere un libro dell'Onti che il sindaco di San Lorenzo in campo, rivolgendosi a Bellagamba, ha detto hai dato la tua intera vita lavorativa per la comunità di San Lorenzo in campo, adesso si apre una nuova fase. Per te, da dipendente anziano, sei passato a giovane pensionato. Dunque grazie per tutto quello, poi la ringraziato per tutto quello che ha fatto. Qui siamo invece nella zona di Ostravetere, a Senigallia. Ieri una tromba d'aria ha causato tanti danni, sono state allagate diverse zone tra Ostra, Trecastelli e Ostravetere. Vento e Grandine hanno danneggiato molte piante, diversi allagamenti e una raffica di blackout elettrici. Questo è un camion che addirittura è finito fuori strada a causa dell'asfalto reso impraticabile dal fango che è caduto. Poi invece c'è questa denuncia sul resto del Carlino, la denuncia di Giorgio Aguzzi che è presidente dell'associazione commercianti Tuberas che raggruppa, ed è la prima associazione di commercianti in Italia che conta 66 aziende associate per quanto riguarda il tartufo. La denuncia qual è quella di Aguzzi? Che raccolgono tartufi o adesso che non si possono raccogliere? Adesso che non si può. E così dice Aguzzi si distrugge il sistema e quindi servono più controlli. Tant'è che quest'anno, secondo le previsioni, ce ne sarà tanto di tartufo, un sacco. Però lo stanno cavando ora che non si può. E quindi cosa fanno? Raccolgono il fiorone, ovvero il tartufo immaturo. E lì, in quel punto, il tartufo non crescerà più. E dunque potete capire, anche pur non essendo esperti come me, che è un danno enorme soprattutto al territorio. Lo denuncia appunto Giorgio Aguzzi e che dice ci sono degli abusivi che sono già a spasso nei boschi senza che nessuno li controlli. La raccolta del tartufo bianco, pregiato per legge, è consentita dal 30 settembre in poi, ma c'è già chi raccoglie il tartufo e lo commercia addirittura anche all'estero. Gli abusivi nei boschi, insomma, fanno quello che vogliono. Qui siamo invece sulla pagina della Valle del Cesano. Si cercano prove certe della battaglia del Metauro. Il professor Mei lavora con gli spagnoli e dice così hanno individuato il sito di Beucula. Sono le 7.24, comincia a essere tardi, bisogna andare di corsa, i lupi hanno ucciso anche qui, ho paura, di notte non esco più, siamo a Gradara, altro caso in provincia dopo la carneficina di Capre dell'altro giorno. Leonardo dice noi siamo stati lasciati praticamente soli. E qui siamo invece sulla pagina di Urbino del Corriere Adriatico, la festa dell'Aquilone, festa con coda polemica, la Fenice non è riuscita a volare, la contrada Lavagine ha contestato la vittoria di categoria di Hong Kong, un iconeo praticamente di questa giornata che invece è stata molto bella. Oh, chiudiamo un po' con il sorriso. Dai, questo è un articolo che troverete sul giornale i civiltanovesi che ci seguono, possono leggerlo sul resto del Carlino. Si parla delle centinaia e centinaia di chiamate che arrivano ogni giorno al 112 dei Carabinieri. Sono telefonate ovviamente registrate, individuate perché servono in caso di emergenza. Però in questo articolo Lorena Cellini racconta delle stranezze che a volte gli operatori del 112 sono costretti ad ascoltare. Per esempio c'è una signora, un'anziana, una simpatica anziana di Civitarova che è sola, vive sola e quando le sale l'angoscia della solitudine alza la corletta e chiama i Carabinieri. Lo fa praticamente ogni giorno, anche più volte al giorno. Tanto da toccare la quota record di 1200 chiamate dal gennaio fino al mese di agosto. E cosa dice? Riferisce di rumori sospetti intorno alla casa, ovviamente che non ci sono, perché in realtà ha soltanto bisogno di parlare. Ma anche questo è il lavoro dei Carabinieri. Per esempio una donna ancora che dice che si è rivolta al 112 perché aveva i fantasmi in casa. A un certo punto ha chiamato il Carabinieri e ha detto correte perché escono dalla televisione, dalla radio e dal telefono. Poi un altro signore invece ha chiamato perché aveva paura di luci sospette che svolazzavano sopra la sua casa. Era turbato ed era convinto di avere praticamente gli UFO parcheggiati sul tetto. Per non parlare del tizio che invocava la pattuglia perché è convinto che il vicino gli rubasse l'erba dei conigli. E vabbè, questo ed altro troverete sulla pagina di Civitanova del resto del Callino. Noi ci fermiamo qui con la segna stampa. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo stasera alle 20.30 per il telegiornale, con il telegiornale Occhio alla Notizia. A voi tutti l'augurio di una nuova giornata. Arrivederci.